Nuovo peggioramento meteo per la giornata di domani a Levante all'erta gialla dalle 10 alle 15 a seguire arancione su bacini medie e grandi previste precipitazioni intense e venti forti. L'ex asilo Rocca di San Salvatore di Cogorno ospiterà anziani autosufficienti ma bisognosi partiti lavori nella vecchia struttura. La spesa sarà in parte coperta dalla donazione di un cogornese. La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di vivere la fraternità. L'affermazione di Papa Francesco in udienza generale è conclusa con la recita del Padre Nostro. Giovani a lavoro, un tema di confronto lanciato dall'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi. Sabato a Chiavari i giovani illustreranno le loro ricerche e porranno domande ad esperti del settore. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Come avete sentito dai titoli, l'ARPAL della regione Liguria ha diramato un nuovo stato di allerta meteo per il peggioramento previsto per la giornata di domani. Scatterà prima nel Ponente dalle ore 8 del mattino e a seguire anche nel Levante dalle ore 10. Ci vedete la cartina alle mie spalle che ci mostra una Liguria che si tingerà di giallo e di arancione nella parte del pomeriggio di domani per quanto riguarda Levante. Ma per avere ulteriori dettagli ci colleghiamo in diretta telefonica con Andrea Lazzara, portavoce dell'ARPAL. Benvenuto Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque un nuovo peggioramento a breve distanza dall'allerta che aveva caratterizzato il fine settimana, un nuovo allerta meteo. Ecco, quale sarà l'evoluzione meteorologica prevista per domani? Sì, diciamo che questo tempo dopo una piccola tregua torna a regalarci e dispensare pioggia alla Liguria. Sono attese infatti precipitazioni in trasferimento da Ponente verso Levante. Ci saranno precipitazioni diffuse e qualche rovescio a Ponente. Nella zona centrale ci saranno questi venti da nord che potranno dar luogo intorno a metà giornata a rovesci più consistenti nelle zone dove già nell'ultimo fine settimana si sono avute precipitazioni degne di nota. Poi il transito verso Levante, l'intensificazione del flusso da sud-ovest e le precipitazioni attese appunto sulle zone più orientali della regione, quindi del Levante, con precipitazioni che poi andranno ad esaurirsi in serata. Avete sottolineato anche l'aspetto dei venti del mare, che saranno i venti di burrasca sulle coste del centro Levante, il mare localmente agitato. Venerdì avremo una tregua, ma in serata è atteso un nuovo peggioramento, dunque la situazione andrà valutata nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani. Ovviamente l'arancione dalle 15 per le zone, per i bacini medi e grandi della zona C, significa anche che si tratta di bacini che hanno tempi di risposta diversi, più lunghi rispetto ai bacini piccoli e quindi la risposta appunto dell'acqua rispetto alle precipitazioni del flusso dei corsi d'acqua è più lenta e dunque da monitorare per più lungo tempo. Quindi per quanto riguarda la nostra zona del Tiguno, l'attenzione appunto a monitorare i bacini grandi, come dicevi, e medi, è con un accentuarsi dei fenomeni dalle 15, anche se l'allerta scatta attorno alle ore 10. Sì, diciamo che è anche legato alla tempistica del passaggio perturbato, come detto poi andrà valutata anche la situazione idrologica e idraulica, soprattutto legata appunto alle precipitazioni, anche quando poi si andranno esaurendo, ma appunto alle risposte dei corsi d'acqua medi e grandi in questo caso. Grazie, grazie per questo aggiornamento e naturalmente torneremo ad aggiornarci nel caso ci fossero ulteriori approfondimenti. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ringraziamo Andrea Lazzara e come avete ascoltato dunque l'allerta di colore arancione scatterà dalle ore 15 di domani. Pertanto con allerta arancione facoltà di ciascuna amministrazione comunale decidere quali provvedimenti adottare, soprattutto in merito all'apertura dei plessi scolastici. Al momento è giunta notizia dal comune di Sestri Levante che comunica appunto che nella giornata di domani le scuole saranno aperte e dalle 15 sarà operativo il centro operativo in comune per tutta la dollata dell'allerta con attivazione del numero dell'emergente. Un provvedimento leggermente diverso è assunto dal comune di Moconesi. Il sindaco appunto annuncia che l'allerta scatta dal pomeriggio per tante. Le scuole saranno aperte al mattino visto che l'allerta è al pomeriggio. Al pomeriggio saranno però chiuse per cui non ci sarà servizio mensa e l'orario pulmino sarà adeguato. Le elementari l'uscita sarà alle 13 e 15 mentre per le medie l'uscita sarà alle ore 14. In corso di giornate, anche nel corso del Tg13, poi daremo ulteriori aggiornamenti anche relativamente alle altre amministrazioni comunali. Ora cambiamo argomento, parliamo dell'ex asilo Rocca di San Salvatore di Cogorno che diventerà una struttura residenziale per anziani bisognosi del comune. I lavori sono iniziati da un mese. L'opera è possibile grazie alla donazione di un cogornese, un investimento che rimarrà sul territorio e porterà beneficio a tante famiglie. Abbiamo intervistato Don Maurizio Prani. Fervono i lavori al vecchio asilo Rocca di San Salvatore di Cogorno. La casa, del 1924, diventerà struttura residenziale per anziani autosufficienti ma in difficoltà economica. Per la fondazione GB Rocca è un sogno che inizia a diventare realtà. Ad intervento ultimato saranno accolte tra le 16 e le 18 persone. La spesa si aggira sui 500 mila euro. Come pensate di coprirla? C'è un lascito che è stato fatto alcuni anni fa, un lascito vignolo, che ha dato alla fondazione, che è nata soltanto per i bambini e per l'asilo, il compito di occuparsi anche degli anziani. Noi abbiamo pensato di impiegarli così, non con una casa di riposo, non ci sarebbero state le possibilità e le capacità, ma l'accoglienza di persone magari che sono rimaste sole e povere, con un ISEE che non permette né l'affitto né il potersi comprare una casa. Il progetto prevede stanze da 20 metri quadrati, ciascuna con il bagno. Ad oggi si sta costruendo un'ala aggiuntiva al piano terra. Sarà preservato il grande giardino esterno. L'idea è quella di uno o due campi da bocce, che qui a San Salvatore mancano, e poi sotto questa parte ampliata il salone, il posto comune per consumare i pasti, il posto comune dove incontrarsi tutti i pomeriggi, gli anziani che vorranno venire qua a giocare a carte, giocare a tombola, quello che si vuole, supportati chiaramente anche da alcuni volontari della parrocchia, che non vedono l'ora di poter cominciare a stare con le persone di San Salvatore. La residenza per anziani è l'ultimo tassello di un legame sbocciato a San Salvatore di Cogorno e dal borgo custodito. Dal primo l'ascito Rocca, che permise di avviare un asilo nella vecchia casa novecentesca, all'impegno di Don Marcello Botto, che dal nulla e con poche lire costruì sulla proprietà il nuovo asilo, che oggi ospita 120 bambini del territorio, per arrivare al più recente l'ascito Vignolo. Questo è un po' il segno dell'impegno per le persone che, non dico mi sono affidate, ma ci sono affidate, perché la comunità è una responsabilità di tutti e questa responsabilità vogliamo prendercela fino in fondo. I gruppi di opposizione in comune a Santa Margherita Ligure chiedono ufficialmente la convocazione di un consiglio comunale per discutere del servizio di raccolta rifiuti domiciliare porta a porta e di prossimità estesa a tutto il territorio. Le minoranze intendono in sede istituzionali chiedere la possibilità di incontrare pubblicamente i cittadini per affrontare la questione in maniera trasparente e partecipata. Il tema della raccolta differenziata dei rifiuti a Santa Margherita Ligure è seguito con attenzione anche dagli attivisti del Meetup 65 Stelle, che esprimono soddisfazione per come l'amministrazione abbia deciso di gestire la questione. Tuttavia rileva la rappresentanza del gruppo, Patrizia Verderame Russo, un percorso così significativo avrebbe richiesto un maggior ascolto degli utenti, rappresentanti di categoria e abitanti, per valutare e concordare linee guida che rispondessero alle esigenze dei cittadini. Il gruppo auspica correttivi al sistema di raccolta e una riduzione importante della Tari. Apriamo ora la pagina ecclesiale. La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di vivere la fraternità e di ricomporla dopo averla ferita. E quanto ha affermato Papa Francesco questa mattina durante l'udienza generale in piazza San Pietro, il Santo Padre ha proseguito il ciclo di catechesi soffermandosi sulla liturgia eucaristica. Con il Padre Nostro ha spiegato, si invoca da Cristo che il dono della sua pace, così diversa da quella del mondo, faccia crescere la Chiesa nell'unità e nella pace secondo la sua volontà. Poi, ha proseguito Francesco, con il gesto concreto scambiato tra di noi, esprimiamo la comunione ecclesiale e l'amore vicendevole prima di comunicare al sacramento. Ricordando che il rito romano dello scambio del segno di pace posto sin dall'antichità prima della comunione è ordinato alla comunione eucaristica, il Papa ha rilevato che il gesto della pace è seguito dalla frazione del pane. Nel pane eucaristico, ha detto, spezzato per la vita del mondo, l'Assemblea Orante riconosce il vero agnello di Dio, cioè Cristo Redentore, e lo supplica. Abbi pietà di noi, dona a noi la pace. Sono invocazioni che, dalla preghiera del Padre Nostro alla frazione del pane, ci aiutano a disporre l'anima, a partecipare al convite eucaristico, fonte di comunione con Dio e con i fratelli. Quindi, Francesco ha concluso la Catechesi con una esortazione ai fedeli. Non dimentichiamo la grande preghiera. Quella che ci ha insegnato Gesù è che è la preghiera con la quale Lui preghiava il Padre. E questa preghiera ci prepara alla comunione. Adesso sarebbe bello finire questo colloquio, prima di cantarlo, dopo, ma finirlo adesso pregando tutti insieme il Padre Nostro, ognuno nella propria lingua. Preghiamo insieme. Padre Nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male a... Grazie. In occasione della festa di San Giuseppe, l'Ufficio Pastorale e Sociale del Lavoro della Diocesi di Chiavari organizza il convegno Giovani e Lavoro, Il mio futuro e la Liguria. L'appuntamento è sabato, 17 marzo, l'Auditorio San Francesco di Chiavari, a partire dalle ore 9. È annunciata, tra gli altri, la presenza del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dell'Assessore regionale Ilaria Cavo, del Direttore dell'Ufficio Nazionale Problemi Sociali del Lavoro della CEI, Monsignor Fabiano Longoni. Protagonisti, i giovani studenti, che hanno contribuito fattivamente all'organizzazione. Sentiamo. Giovani e lavoro, non solo un titolo altissonante, ma qualcosa di concreto, che coinvolga i ragazzi e li renda partecipi di un'analisi sulla situazione occupazionale del territorio e sulle aspettative per il futuro. L'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi ha lanciato questa sfida, partendo proprio dai diretti interessati. Abbiamo organizzato questo convegno partendo proprio dai giovani. Abbiamo fatto prima di tutto organizzare il loro convegno, facendoli lavorare sui dati legati proprio al mondo del lavoro e all'occupazione. Allora i ragazzi, dopo aver studiato i dati, prepareranno un video nel quale porteranno davanti alle persone che interverranno nel mondo del lavoro le loro aspettative, le loro domande, le loro questioni sul loro futuro. Il lavoro ha coinvolto le scuole del territorio che hanno dato il loro contributo attraverso un'indagine condotta da alcuni studenti supportati dagli insegnanti. Siamo riusciti a coinvolgere ben sette istituti secondari superiori della rete, tre enti di formazione regionale che sono sul nostro territorio e l'Istituto Paritario Gianelli in un lavoro di ricerca documentale su dati naturalmente che provengono da fonti sicure. I ragazzi hanno fatto uno studio attento di questi documenti e hanno anche prodotto un lavoro di sintesi. Nella macchina organizzativa anche l'ente di ricerca SVG al quale è stata affidata un'indagine sul mondo del lavoro nel territorio e la redazione di un questionario sottoposto ai ragazzi delle scuole. Un questionario che li ha chiamati naturalmente a fare una riflessione compiuta sulla loro esperienza di alternanza scuola-lavoro e anche sui loro sogni, il futuro che sognano o si aspettano. Il convegno che si articolerà in diversi momenti avrà come fulcro l'open forum nel quale ciascun giovane potrà sottoporre le proprie domande agli addetti del settore. Parte centrale del convegno sarà il dibattito, il forum che i ragazzi avvieranno attraverso le associazioni, le istituzioni e tutti i partecipanti del mondo del lavoro con le loro domande, le loro considerazioni ai quali appunto bisognerà dare risposta. In occasione della memoria liturgica di San Giuseppe lunedì 19 marzo alle 18 nella cattedrale di N.S. dell'Orto a Chiavari il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini presiederà la Santa Messa nella solennità di San Giuseppe. La liturgia sarà animata dal coro dei lavoratori del Tiguglio. Rinviata lo scorso 11 marzo a causa dell'allerta meteo sarà recuperata domenica 8 aprile la visita a Cremona organizzata dall'ufficio scuola della diocesi di Chiavari. Per chi era già iscritto occorre confermare la propria presenza o per chi volesse partecipare ci si può aggregare. Il tutto va fatto entro il 25 marzo alla segreteria di piazza N.S. dell'Orto a Chiavari telefonicamente chiamando il numero 335-6758-391 oppure via mail scrivendo all'indirizzo scuolachiocciolachiavari.chiesacattolica.it oppure ancora passando di persona lunedì o mercoledì dalle 9.45 alle 12. Resta invariato il programma. Il Lions Club Lavagna Val Fontana Buona con te dei fieschi del Lions Club Chiavari Host in collaborazione con Tigulio Motor Club organizzano per il settimo anno consecutivo un raduno di veicoli d'epoca a scopo benefico. L'iniziativa si terrà domenica 25 marzo. Il ricavato andrà a favore del Fondo Chiararama in particolare del progetto per un ospice pediatrico del Gasline che il Fondo sostiene. Sentiamo. Quest'anno la scelta è ricaduta sul Fondo Chiararama perché il Fondo Chiararama si occupa di aiutare il Gaslini con delle borse di studio e l'ospice di Chiavari. Il progetto che aiuteremo in particolare del Fondo è l'ospice pediatrico del Gaslini. Un'altra testimonianza dell'impegno del Fondo Chiararama viene data da questa iniziativa. La nostra idea di poter sponsorizzare una psicologa un psicoterapeuta, chi lo sa, non lo sappiamo ancora bene, dipende dalle nostre forze finanziarie. Le figure non obbligatorie sono altrettanto indispensabili. Una di queste è il fisioterapista. Perché è importante una figura di questo tipo? È importante perché la filosofia dell'ospice, soprattutto l'ospice pediatrico, è quella di prendersi cura globalmente del paziente e quindi anche la gestione degli aspetti più strettamente fisici, quali quelli di competenza, della fisiatria, della fisioterapia, sono una componente essenziale per il benessere del paziente. Qual è il programma della manifestazione? Il programma prevede tanto il concentramento delle auto e delle moto in Piazza Cagliardo e dove alla 9.30 viene la partenza. Partenza per la Fontana Buona e poi si scavalca verso la riviera e si arriva a Recco e Santa Magalità Ligure dove c'è l'arrivo. L'anno scorso era la Via dell'Olio e quest'anno sono le Via delle Ardesi. Quanti veicoli sono attesi? Noi speriamo di arrivare sui 80-100 mezzi. Dipende anche sempre dal tempo perché sapete benissimo che i mezzi d'epoca quando è brutto non escono. Oltre al raduno di veicoli d'epoca si è aggiunta su proposta del responsabile del Presidente del Fondo Chiararama una sfilata di moda in cui sfileranno gli abiti della Maison della Moda di Chiavari e sulla pedana saliranno le ragazze che hanno partecipato alle ultime edizioni della Perla del Porto. Sta suscitando entusiasmo la candidatura del pesto genovese al mortaio come patrimonio dell'UNESCO. Questa mattina gli alunni dell'Istituto Scolastico Paritario di Genova San Fruttuoso hanno animato un flash mob sul piazzale della scuola per sostenere l'iniziativa. Domenica in piazza Giovanni Paolo II Dalle 16.30 i leivesi potranno firmare i moduli a sostegno della candidatura auspicando che la domanda possa essere presa in considerazione dal Comitato Interministeriale Italiano dell'UNESCO ed essere messa nella tentative list per poi procedere lungo un lungo l'iter. Si terrà quindi una dimostrazione pratica della preparazione della tipica salsa a cui chiunque può partecipare ricevendo un kit che comprenderà pesto, pinoli, formaggio, sale e olio. Anche i negozi, i bar, i ristoranti e l'attività di Rapallo sono entusiasti della candidatura del pesto genovese al mortaio come patrimonio UNESCO. Con l'impegno dei Cive di Ascom si stanno moltiplicando le iniziative i piatti proposti e le vetrine che si coloreranno di verde basilico. Grande fermento in attesa di domenica quando si svolgerà la pestata e diventerà una realtà. Ora diamo la linea a Marco Revello per la rassegna stampa poi ci ritroviamo con tutti gli altri aggiornamenti e lo sport. Gli artigli di Trump e questo è il titolo di avvenire il presidente Licenzia Tillerson il Falco Pompeo è il nuovo segretario di Stato la dura Aspel invece va alla CIA il responsabile della diplomazia statunitense rimosso con un tweet non andavamo d'accordo su molte cose dissidi dall'Iran alla Corea e in Italia dissidi non mancano Movimento 5 Stelle e Lega chiudono al governo di tutti Salvini dice Michael Pd più possibilista con i 5 Stelle e Berlusconi rimane spiazzato. I dati degli Istat dicono meno disoccupati Massoud e giovani restano indietro e poi ci sono notizie internazionali migranti eritreo muore di fame arrivato a Pozzallo come usciti da un lager aiuto della CEI ai siriani riaprono tre ospedali vediamo all'interno di avvenire grazie all'Italia sostegno della CEI e al progetto dell'Avsi Zenari il paese viandante tramortito dai briganti in 5 anni la conferenza episcopale italiana ha finanziato con 5 milioni di euro 15 interventi in campo educativo, alimentare e abitativo il cardinale Bassetti presidente della CEI un contributo alla pace che parte dalla carità e annuncia per il 2019 una conferenza mediterranea per la pace secolo XIX di Maio e Padoan scintille sull'Europa Salvini no al tetto deficit pills tensione al vertice con Berlusconi e poi Trump caccia Tillerson in America volano i falchi dal nostro territorio consiglio di Rapallo il consiglio comunale San Michele stoppa il progetto per Nigotti Capurro no al cemento nel Levante Sestri se il lavoro non è un miraggio Recruiting Day faccia a faccia tra aziende e candidati nel settore turistico e alberghiero Palazzo Fasci iniziativa gratuita dell'agenzia cooperativa Cooper Job vicino al consorzio Tassano la responsabile Silvia Cozzi dice la giornata è andata bene pensiamo di ripeterla breve per un altro settore ancora dal Levante sul secolo XIX guidano auto da 80 mila euro ma non pagano l'assicurazione giro di vite di carabiniere polizia locale a Santa Margherita Ligure da gennaio 24 casi veicoli non revisionati altri senza copertura assicurativa da anni questa mattina nell'aula magna dell'istituto nata di Sestri Levante gli studenti hanno potuto incontrare Agnese Moro e Giovanni Impastato l'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Credere promosso dalla diocesi il titolo dalle conferenze è stato per cosa vale la pena vivere Agnese Moro figlia dello statista Aldo Moro e Giovanni Impastato fratello di Peppino ucciso dalla mafia del 1978 hanno portato la loro testimonianza nel ricordo di due persone con percorsi di vita differenti uniti non solo dalla data di morte ma anche dalla passione per la verità e la giustizia a 40 anni dal maggio del 1978 gli studenti si sono confrontati con l'attualità di queste due figure ne torneremo a parlare nel telegiornale serale ora diamo la linea alla redazione per noi Maurizio Garreffa grazie Cristina un saluto a tutti un flash di cronaca la sezione antidroga della polizia di Genova ha arrestato un italiano pluri pregiudicato noto alle pagine di cronaca della città di Genova per aver fatto parte tra gli anni 80 e 90 della famosa banda di Teglia che si è resa responsabile di numerose rapine a mano armata in città a Genova ma anche in provincia i danni di farmacie portavalori banche uffici postali e caselli autostradali state vedendo intanto le immagini della polizia di Stato la sua carriera nel crimine se si può dire così ha avuto inizio in giovanissima età e lo ha visto legati ad alcuni dei più grossi pregiudicati genovesi l'uomo è stato riconosciuto intercettato in strada dagli operatori della squadra mobile i quali hanno rinvenuto un chilo di cocaina a bordo della sua macchina e circa 15 kg di marijuana presso la sua abitazione all'interno del vano cantina l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Genova a Marassi è tutto la linea può tornare allo studio bene grazie iniziamo con la pagina sportiva andiamo sul nostro sito teleredpace.com con una notizia che riguarda la pallanuoto chiavarese la società chiavarinuoto ha comunicato di aver interrotto il rapporto tecnico con il mister della prima squadra verde e blu Andrea Mangiante l'annuncio è arrivato dopo la sconfitta casalinga di sabato 10 a 8 con l'Ancona la guida della formazione chiavarese nel campionato di serie A2 sarà affidata all'allenatore delle giovanili Gigi Burlando e ancora sport Martina Mugnai del centro studi disciplina orientali 2000 di Lavagna parteciperà con la nazionale italiana al primo campionato junior del Mediterraneo di Wushu in programma nei prossimi giorni a Rabat in Marocco l'atleta è la sola tra i sette italiani selezionati dalla direzione tecnica a gareggiare nella specialità di Tai Chi Chuan la capacità tecnica e atletica di Martina ha spiegato il maestro Luca Ghinolfi fanno sperare in una medaglia si conclude così questa edizione del telegiornale l'informazione torna questa sera alle 19.15 20.30 22.45 contiguglio oggi grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti